Buonasera, ci rivediamo dopo quattro mesi che mi ho lasciato SpyLife. Esattamente il 27 di luglio io sono uscito definitivamente da SpyLife. Avevo un canale YouTube che non lo aprivo almeno da 4-5 anni e il 27 di luglio l'ho rispolverato e l'ho messo in funzione. Avevo solo 45 iscritti. Oggi mi ritrovo con questo canale dopo quattro mesi con 1312 iscritti. In pratica in quattro mesi l'ho portato a un livello abbastanza alto e ne sono orgoglioso. Questo per significare che gli amici ce li ho, ce li avevo dentro lo SpyLife e anche fuori. Quindi anche se ora ogni tanto viene qualcuno a disturbarmi, ma non ha importanza. Quando scrivono, fanno qualche commento che non mi piace, lo cancello e lo blocco. Il problema non c'era. Qua comando io, su SpyLife non lo potevo comandare. E anche per questo è stata la causa che me la sono andata. Come ho detto oggi, vi faccio vedere la pagina del mio giro perché, come vedete, sono 1312 iscritti in uno. A settembre mi ho aperto un altro canale che ora ve lo faccio vedere subito. che da settembre a oggi, partendo da zero, in breve settembre, ottobre, novembre, in due mesi e mezzo, ho 653 iscritti. L'altro canale vi rivievo e ve lo faccio vedere pure. Come vedete, ormai la mia... io mi sto dedicando solo a questi due canali e anche per farmi vedere un po' in faccia, visto che io faccio video che non mi mostro mai, non faccio video elaborati, non li mondo i video, come le registro le metto. Il problema non ce ne sono solo. Io vi ringrazio tutti per quelli che mi seguite in tutti e due i canali e poi ogni tanto vedo in qualche video messo un pollice in giù, ma uno o due. dopo... io avrò... ho 100 pollici in giù e ne trovo due in giù. Comunque può capitare che non mi esce un video a qualcuno, ma non mi interessa. quello che mi interessa sono i risultati degli iscritti e delle visualizzazioni, che ho molte visualizzazioni, in uno e nell'altro canale. Anzi, nell'altro canale ho raggiunto anche 4.000 ore di visualizzazione. Quando prima i miei video sono già monetizzati in quel canale, quello più grosso, e questo qua, più piccolino, quest'anno per un altro paio di mesi, anche questo verrà monetizzato. E devo dire, amici, io ringrazio tutti gli amici di Spy Life, non so quanti si sono iscritti di Spy Life nel mio canale, ma non importa. L'importante è avere fiducia in se stessi, quello che ho io. Io non sono un tipo, sono umile, però so fare le cose. Non faccio una cosa per un piacere. Avevo molti fans su Spy Life, ero io pure qua. Quindi, la mia vita non è cambiata completamente. Il posto di regia è sempre questo. Come vedete, non cambia niente. Detto questo, vi saluto. Buona domenica sarà. Adesso carico questo video in tutti e due i canali. E chi se lo vuole ascoltare, se lo ascolta. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.